Passigliata in Campo Moro, una dora genuese e facile dai unghiegi e che offre un panorama magnifico nel talgolfo Iuvalinco. Vigina Prubià, sabicola marina, pare spiccata dal mondo e si assomiglia a qualche ridiro calmo e sereno che vale bene andare solo solo per questa. Un piccolo golfo che porglie una biana marina che ho visto in un'acqua turchinella che ho una gamba. Sa, passigliata, ed avrà in famiglia. Tutti acconciati e pannelli spiegativi insegnano a chi pediega gusti parecchi bonti del percorso ed in un qualche fatto storico in quanto a susidio. E così che lo sampara che quando non c'erano i castagni, s'adubravano gli inebari davanti abordinati e cantigli. Si spiega in un come l'eravato garbone con i cadastri in legno e in pieno mezzo un tuvone. Il giasso gira e rigira e ommosi la caportata o pannello all'alto, sino a porta magnifica in legno di la cinta e ad ora. In gira s'ad ora c'è una cinta fortificata. Altra particolarità ad ora è più l'erga che si è fatta un'antavolidurale corso e, difatti, si straziega a fare l'entra in l'oggettivo di un ritratto. Ma per disgrazia, con questa gara entra bene, tutto così. E semmo le visite ad ora ci tocca aspettare la stagione turistica e capire un po' di euro. E poi, appassigliata, continui a andare in isola e faccia un giro completo all'alto litorale. Come un po' in tutti i luoghi di Saberte e Agosta, i scogli non soccati i venti e i scrizzi di un marino. Accesso Quando si perde la propria, piglia la grucevia in direzione di Belvedè-Campomoro, giusto dove va il bonte e il rizzanese. Tanto ci vuole seguire la strada, non c'è una decina di chilometri, da poter giungere la marina. La strada, che va ad ora, è un accesso privato. Dunque, ci docca legare la vittura in dei barchetti, a sesta di Nanzo e continuare a piedi. Appassigliata e insegnata proprio a e tutti ci buono iunghi.